Cari amici, benvenuti a una nuova riflessione fotografica che se è la prima riflessione che vedi o ascolti tramite podcast ti ricordo che sono riflessioni sul mondo della fotografia un po' a 360 gradi a volte si parla di attrezzatura, a volte si parla di alcuni autori della fotografia a volte si analizza e si riflette su dei temi o su dei comportamenti su dei modi di fare che coinvolgono tutti noi insomma il mondo dei fotografi amatori, professionisti eccetera quindi sono delle, chiamiamole pausa caffè, dei break dal lavoro quotidiano per riflettere un po' sul nostro hobby in maniera più o meno spensierata in maniera più o meno profonda ok, questa è un po' la prima riflessione fotografica che vedi allora questa riflessione fotografica che puoi trovare nel nostro canale iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto perché vengono trattati tanti temi appunto legati al mondo della fotografia ci sono anche tutorial, ci sono recensioni dell'attrezzatura insomma tante cose che riguardano il mondo della fotografia e del video insomma nella playlist riflessioni fotografiche puoi trovare un video, una riflessione appunto che feci diversi mesi fa, torniamo intorno, penso quasi un anno fa ormai dal titolo Doping Fotografico allora questa riflessione fotografica Doping Fotografico nacque da una pubblicità che vedi di una nuota società di software insomma Luminar, in particolar modo del prodotto nello specifico era Luminar che puntava tantissimo come strategia di vendita nel fatto che con Luminar hai un catalogo praticamente non dico sconfinato ma molto abbondante di diversi cieli insomma quello più al tramonto, quello di notte col cielo stellato quello nuvoloso, più o meno drammatico eccetera e che con un paio di click o di regolazioni tu riesci a fonderlo con un'altra immagine ottenendo quindi un'immagine dal look secondo loro più accattivante ok? io insomma in questa riflessione fotografica criticai un po' questo approccio ma è inutile che ritorno sul tema insomma vatti a vedere il video se ti piace o se ti interessa ora questo video generò tantissime visualizzazioni e tantissimi commenti alcuni a favore di queste riflessioni altri assolutamente contrari altri addirittura se le appresano sul personale probabilmente insomma l'avevo toccato un po' sul vivo oppure perché insomma erano temi che effettivamente gli stavano a cuore ci sta, è normale, sono temi che scaldano facilmente gli animi allora io non sono contento ci voglio un po' ritornare su questo tema visto però da una prospettiva, da un'angolazione diversa in particolar modo riferito alla fotografia di paesaggio ora se non sei un fotografo alle prime armi o quantomeno se sei un minimo anche addetto al mondo un po' della comunicazione eccetera saprai, della comunicazione visiva mi riferisco saprai che probabilmente in passato le immagini più manipolate in assoluto in passato mi riferisco insomma anche soprattutto all'era digitale erano le fotografie commerciali quindi quelle di moda magari di bellezza insomma quelle che magari vendevano il costume piuttosto che un abito eccetera eccetera dove praticamente il corpo della donna diventava sostanzialmente una statua greca insomma assumeva un mito di bellezza spesso assolutamente irreale con tutti i problemi che questo anche dal punto di vista culturale e sociologico ha comportato ma non è questo l'oggetto della riflessione fotografica di oggi oggi ora nel mondo della fotografia commerciale dico che posso capirlo perché sappiamo che la bellezza vende di certo è più facile vendere un costume su un corpo di una donna di una ragazza statuaria piuttosto su un corpo di una donna reale magari con smagliature cellulite eccetera e quindi vabbè siamo in alcuni casi al limite a mio avviso in alcuni casi della truffa perché tu insomma sostanzialmente se tu produci un prodotto dimagrante e lo fai vedere su una donna che è stata completamente rifatta al computer il cui corpo è stato rifatto al computer beh fai pensare qualcosa che poi magari nella realtà non è ma insomma non è questo il tema oggi dicevo paradossalmente forse il mondo della fotografia paesaggistica che è quella più manipolata di tutti almeno di una parte della fotografia paesaggistica io mi sto accorgendo che gran parte dei fotografi paesaggisti anche a causa di alcuni fotografi di alcuni youtuber che continuano a sparare tutorial a chiappa iscritti a chiappa visualizzazioni perché poi il fine è sostanzialmente questo stanno dando spazio a un modo di concepire la fotografia di paesaggio che almeno a me personalmente non piace e ti spiegherò le ragioni attenzione ti ripeto questa è una riflessione fotografica cioè uno spunto per riflettere su dei temi sui quali tu puoi essere d'accordo con le mie motivazioni oppure totalmente in disaccordo oppure esserne in parte d'accordo insomma non prenderla assolutamente sul personale se ti ci arrabbi veramente tanto fatti qualche domanda chiediti perché ti arrabbi così tanto su una riflessione io non sto dicendo che le mie parole sono il verbo lo scopo di questi video serve per riflettere su alcuni aspetti del mondo della fotografia ok lo dice appunto il titolo della rubrica riflessioni fotografiche ora perché dico questo? perché mi è venuta questa riflessione che è una cosa che in realtà è da tempo che vedo insomma ormai io personalmente le schivo proprio tutti questi video queste foto e così le schivo come la peste perché a me non piacciono ma di quale foto sto parlando? insomma avrai quelle sono le classiche foto e soprattutto le classiche tecniche che vedi in giro insomma ormai quando si parla di fotografie di paesaggio allora a parte i filtri che chiaramente quelli sono un elemento importante ma insomma è dal focus stacking quella più basica è dal time blending, il visual blending, il digital blending l'HDR, il tonal mapping insomma 10.000 tecniche che in alcuni casi possono essere sicuramente d'ausilio ma insomma vengono portate come se non fai così non farai mai una buona foto perché poi ci sono ovviamente gli estremi di tutte le cose e spesso nella fotografia di paesaggio si vedono cose incredibili cioè si costruisce praticamente al computer la foto allora io ti racconto questo recentemente stavo cercando su internet dei fotografi paesaggisti perché ci voglio fare insomma dei video su appunto tecnica fotografica eccetera a un certo punto su google mi propone praticamente dei corsi di fotografia e di paesaggio fai in arte che tutto era tranne che fai in arte almeno secondo il mio punto di vista insomma vado a vedere di quanto è interessante magari c'è qualche riferimento a qualche autore del passato eccetera insomma vado a vedere il classico workshop corsa eccetera in cui c'era appunto la parte e poi ti sveleremo i segreti di photoshop e così potrei trasformare le immagini da così a così e c'era praticamente sapete lo slider che tu scuri a destra e a sinistra e vedi prima e dopo ora sono rimasto basito perché nella mia ingenuità ok il cielo ormai cambi il cielo ormai è la prassi a me piace il cielo dell'arizona anche se sono pieno rapadana così ormai è normale così come normale ripeto l'HDR o altre tecniche di questo tipo ma la cosa più assurda che devo dire così come stravolgere i colori che è un altro tema che a me veramente un po' mi lascia sempre molto perplesso ma la cosa che veramente mi ha sbigottito è che ho visto praticamente addirittura modificare la morfologia del terreno cioè la montagna che diventa più alta e un po' più stretta le rocce che diventano più rotonde e voluminose cioè cambiano completamente il paesaggio ma ripeto non solo ci aggiungi il cielo non solo stravolgi i colori quindi che non è più un paesaggio scozzese ma lo fa diventare quella luce dei caraibi cioè oggettivamente che senso ha? vabbè ma a parte questo ci aggiungi ovviamente tutte le figure mettiamoci la figura umana perché sappiamo che la figura umana fa effetto nel paesaggio quindi ci azzeccano l'omino piccolino chiaramente sempre nella stessa posa poi la cosa interessante è che era lo stesso omino riportato in più fotografie esattamente con la stessa posa o simile vabbè comunque allora da tutto questo mi nascono delle riflessioni che ti voglio condividere con te magari ripeto sei d'accordo oppure no allora la prima riflessione che faccio è che le fotografie di paesaggio sono sostanzialmente tutte uguali e non può esistere un'esposizione normale cioè o sono sei ore di esposizioni o se no la foto fa schifo quindi lunghe esposizioni a go go cioè praticamente tu non solo devi comprarti l'attrezzatura ti devi comprare anche un camper perché sul luogo siccome sono sei ore di esposizione ci devi dormire e campare e vivere eccetera quindi vabbè le esposizioni lunghissime e ci può anche stare l'acqua setosa sia mai che il paesaggio non ha l'acqua setosa io tra l'altro sto pensando ragazzi seriamente di fare un brand acqua setosa l'acqua per il vero fotografo secondo me funziona è una cosa veramente figa l'acqua setosa oppure il cielo no questo cielo che con queste nuvole che cioè te la fai addosso appena lo vedi oddio sta arrivando un uragano devastante altro che Catrina quindi ormai sono praticamente tutte fatte in questo modo colori caldo il trionfo dei colori caldi rosa, magenta, indaco poi che tendono verso il blu perché poi fanno sempre questo contrasto finto carico di saturazione colori ipersaturi cioè una roba veramente gridano vendetta c'è sempre magari possibilmente l'omino piccolino perché ripeto fa paesaggio dal senso delle proporzioni che quello sarebbe il peccato meno grave insomma l'uso dei grandangoli ragazzi cioè se tu non hai almeno un millimetro dall'uno al cento millimetri di focale beh l'ottica non è buona cioè devi sempre questo uso dei grandangoli che tra l'altro è una delle ottiche delle focali più difficili da utilizzare e che viene utilizzato nel 90% dei casi forse no 90% è troppo 70% dei casi veramente male comunque queste grandangolate praticamente estreme ed è buffo perché se ripenso i fotografi a cui io mi ispiro insomma i fotografi del paesaggio avevano un approccio al paesaggio intanto in genere più rispettoso comunque nei colori nelle cromie eccetera ma soprattutto cercavano anche una connessione un'interpretazione del paesaggio cioè è palese che il paesaggio viene comunque interpretato se noi prendiamo un fotografo che per certi versi anche se nel bianco e nero si può avvicinare un po' l'approccio dei fotografi di oggi anche se sto dicendo un po' una bestemmia pensiamo a Kenna anche lui utilizza spesso filtri lunghi spulinghisti in esposizione eccetera eccetera ma si vede che in Kenna a parte che lì parliamo di fotografia con la F maiuscola ma comunque ed è fatta in analogico ma si vede che c'è un'interpretazione del paesaggio una ricerca visiva un'estrapolazione magari di un dettaglio che in qualche modo rappresenti un po' l'idea il concetto del paesaggio stesso c'è un pensiero dietro cioè le foto di Kenna le fa Kenna chi le fa come Kenna si vede che sono copiate da Kenna quindi sono cose un pochino diverse quindi ecco oppure magari fotografi che cercavano anche un dettaglio che racchiudesse il senso del paesaggio nel suo insieme quindi non ottiche iper grandangolare ma magari addirittura dei tele o medio tele eccetera oppure la semplicità quindi foto semplici di paesaggio invece oggi si cerca sempre di stupire di sbicottire che poi la cosa assurda è che ormai più le fai le foto come una volta e più stupisci in quel modo perché tanto oggi sono tutte uguali le fotografie tutte con lo stesso look l'altra riflessione che faccio ragazzi è che più che essere dei fotografi ormai bisogna essere dei maghi di photoshop bisogna essere dei maghi di photoshop la verità è un po' questa tra l'altro con vedo dei tutorial che intanto mi riguardo anche un po' per ridere mi diverte con 7000 passaggi allora fai questo a doppio livello crea la maschera la submaschera crea uno smart object poi fai il blending ragazzi cioè una roba allucinante spesso tra l'altro motivato tutti questi passaggi dal fatto che la foto l'hai scattata in maniera assurda cioè se tu avessi scattato nei tempi negli errori giusti con la luce giusta e in una condizione di contrasto fattibile o quantomeno avvicinabile per una fotocamera tu non dovresti fare 7000 passaggi te ne basterebbero tre fatti a modo sapendo quello che devi fare e la foto è più naturale più bella e ti sei meno complicato la vita cioè veramente 7000 passaggi gente che facciamo una fusione con 40 immagini cioè 40 immagini fuse insieme ma che senso ha ma ci rendiamo conto la paranoia almeno secondo il mio punto di vista ripeto verso cui stiamo andando non ha veramente senso secondo me cioè è un proprio un modo di approcciarsi della fotografia che non è più fotografia perché sostanzialmente insomma è stata un po' creata a computer e questo è il terzo punto ora utilizzerò una parola forte e forse non è del tutto adeguata perché parlo del termine barare ora barare si riferisce al fatto che uno barra secondo delle regole in fotografia le regole proprio come dire assiomatiche non ci sono se non una che doveva essere la base ma viene solitamente infranta cioè luce significa fotografia significa fotografare con la luce cioè la luce è l'elemento principale però oggi ce ne dimentichiamo ma comunque a me la cosa che un po' mi lascia perplesso è che mi fa riflettere questo ma io sapendo che sto in qualche modo barando perché ragazzi ora alcuni di voi non saranno d'accordo ma nel momento in cui io ci metto un cielo finto ok addirittura di un posto di un altro posto di un altro parte del mondo ci metto l'omino modifico la morfologia modifico i colori modifico la luce cioè modifico praticamente tutto modifico tutto cioè addirittura ripeto trasformo le montagne a questo punto non è più fotografia è un'immagine costruita al computer perché dico questo ed è un ipso facto cioè non è discutibile perché quella immagine se non fosse stata creata al computer non esisterebbe cioè se tu parti dal negativo e parti dall'immagine finita non ci azzeccano praticamente nulla sono due cose completamente diverse quindi non puoi parlare di fotografia questa è la verità ripeto non è discutibile ma io non ce l'ho contro chi crea le immagini al computer si è inteso attenzione io ho delle persone che conosco veramente molto bravi che fanno diciamo fotografia concettuale o immagini concettuali sono degli diciamo degli artisti concettuali che traggono spunto dalla fotografia per prendere delle parti che poi al computer stravolgono in maniera più o meno importante per creare un prodotto finale che è un'opera ripeto digitale che magari esprime un concetto io ho una grande ammirazione per chi ha queste competenze e questa capacità non critico assolutamente questo tipo di approccio quello che critico è che tu mi dici che è una fotografia e più delle volte dici no no io non ci ho fatto nulla non ci ho fatto nulla oppure il diametralmente opposto fai vedere quanto sei stato bravo a trasformare una fotografia in una immagine costruita al computer dimenticandoci che sostanzialmente sei passato dalla realtà alla finzione perché è così ragazzi ripeto è indiscutibile questa cosa è sotto gli occhi di chiunque vuole vedere e quindi sostanzialmente tu di fatto hai creato un'immagine al computer per cui perché dico barare e perché il termine può essere giusto in alcuni contesti perché se tu quella foto poi la mandi a un concorso e probabilmente vinci perché poi all'interno della giuria ormai c'è spesso gente anche incompetente o che semplicemente magari sono giornalisti che non hanno competenza vera di fotografia e non sanno riconoscere quando una foto è palesemente costruita al computer a volte tra l'altro sono fatte così bene che è difficile effettivamente riconoscere quindi quando tu fai questa operazione e magari vinci un concorso insomma ma dentro di te tu lo sai che hai barato cioè che hai creato al computer un'immagine e magari l'altro che ha perso cioè ha fotografato realmente ma ha fotografato la realtà che può essere anche meno spettacolare sotto alcuni punti di vista ma è la realtà è una vera foto di paesaggio quindi per vera foto non intendiamo che deve essere tutto esattamente come perché sappiamo la fotografia è un'interpretazione della realtà però cioè creare l'immagine al computer capisci che è insomma un ulteriore passo avanti cioè un ulteriore salto di un ulteriore passaggio di livello quindi insomma attenzione alla gradualità con cui vengono vissute certe fasi per cui secondo me quella è un po' barare e questo è una cosa che io mi chiedo ma io so che sto barando so di raccontare una frottola so che fondamentalmente ho visto addirittura una foto di un di un campo di lavanda con un albero ok fatta di giorno fatta di giorno hanno tolto praticamente il cielo che era azzurro omogeno quindi abbastanza facile da togliere e ci hanno messo dietro un cielo della via lattea fatta di notte ovviamente in un posto non so l'avranno fatto in un deserto da dove l'hanno preso sto cielo perché era troppo perfetto quindi un cielo della via lattea montato bene sono stati anche bravi a equilibrare le luci fatto sta che quella è una foto assolutamente finta cioè è completamente finta quindi tu stai barando totalmente ma in maniera a volte spudorata in maniera spudorata e tu sai e quindi tu sai che stai barando ora non sto parlando che se utilizzi il focus stacking e stai barando il focus stacking può essere insomma una tecnica che ti aiuta a limitare i limiti di una fotocamera ok soprattutto di alcune alcune fotocamere alcuni sistemi più che fotocamere quindi volendoci può stare ma ripeto tra l'originale e l'immagine finale ci deve essere insomma l'evidenza che sono praticamente identiche il finale giustamente è stato ottimizzato è migliorato sono stati valorizzati alcuni punti sono stati minimizzati altri punti ci sta questo fa parte del normale lavoro di sviluppo e post produzione quindi l'altra riflessione è ma non ti da fastidio in qualche modo di barare a me personalmente è una cosa che a me darebbe fastidio un'altra riflessione che faccio è perché fai così uno potrebbe dire ma è arte no ragazzi per favore non fatemi questi discorsi perché io nell'altra riflessione fotografica ho sentito delle cose ho detto vabbè lascia perdere non rispondo al meglio sul fatto che anche in analogico si faceva si faceva anche in analogico in maniera molto più limitata ma si faceva sostanzialmente per due motivi o a fini propagandistici ci sono diverse foto di manipolazioni evidenti durante il comunismo il fascismo eccetera se ti piace essere paragonati a questi contesti boh fai tu una tua scelta oppure per fini artistici va bene penso a radiogramma oppure ad altre tipologie di creazioni ma erano creazioni puramente artistiche ok dove insomma era evidente comunque il fine artistico e comunque devo dirti la verità io non condivido neanche tanto questo perché se tu pensi è che se fossero state prendiamo per assurdo manipolate tutte le foto del passato noi oggi del passato avremmo un'idea completamente falsata e questo secondo me è una cosa molto 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 grave ecco perché dico che questo aspetto di come questa deriva che ha preso la fotografia dovrebbe essere affrontata in chiave sociologica masmediologica culturale antropologica legale eccetera ma un tema insomma troppo complesso per affrontarlo in pochi minuti di video per cui secondo me perché lo fai ora lo fai a mio avviso per un motivo sostanzialmente per farti dire wow che foto quanto sei stato bravo e per poter dire non ci ho fatto nulla perché la verità è questa dai cioè vedi questo dito non mi copre non mi copre cioè mi vedi anche dietro al dito lo fai per questa ragione quindi tu fai queste effette queste foto wow che non dicono niente del paesaggio che non raccontano niente del posto che stai visitando ma che sostanzialmente fanno avere tanti like tanti cuoricini su instagram vabbè ognuno ha le sue soddisfazioni però onestamente almeno uno lo ammette è peccato però che non ammetti che questa foto in realtà non è una foto un'immagine costruita al computer ma l'ultima riflessione e poi chiudo è che se uno fotografa il paesaggio io credo che la principale motivazione per il quale uno fotografa il paesaggio è perché ama la natura perché se no se ti piacciono i vestiti fotografi i vestiti ti piacciono le macchine fotografi le macchine quindi se ti piace la natura ma perché vuoi stravolgerla? cioè ma non pensi che sia sufficientemente bella? cioè non pensi che abbia già tanto da dire da raccontare se solo uno sapesse vederle le cose perché devi stravolgerla? cioè voglio dire ami la natura racconta la natura magari interpretala a modo tuo magari concentrati su un aspetto su un particolare del paesaggio enfatizza alcuni aspetti ma onestamente racconta la natura così com'è o quantomeno in un modo credibile in un modo anche un po' più autentico cioè rispettando la natura se tu fai pure contraffazione a mio parere fai male a te stesso alla natura e fa male anche un po' al mondo della fotografia ecco questo è un po' il mio pensiero riguardo appunto al al mondo a questo modo di intendere la fotografia di paesaggio e continua a chiedermi ma questa è ancora fotografia? fammi sapere la tua opinione ciao